Nuovo progetto o scorrimento della gradatoria? E questo è il dilemma per l'istituto di Nino Morandi di Sulmona, chiuso dal 17 ottobre 2014, incappato nel vortice di un'inchiesta giudiziaria riguardante lavori post terremoto. Nel tavolo istituzionale convocato per domani alle ore 10.30 presso il Proveritorato alle opere pubbliche, divenuto soggetto attuatore per i lavori di adeguamento sismico dopo la convenzione siglata con la provincia dell'Aquila, potrebbe sciogliersi il nodo che tiene tutti, con il fiato sospeso. Questa volta si arriva uniti e compatti dopo l'ultimo incontro istituzionale tenutosi qualche settimana fa a Palazzo San Francesco. Il comitato di Nino Morandi spinge per lo scorrimento della gradatoria, puntando a rientro a Sulmona nel più breve tempo possibile. Amministratori, comitato genitori e dirigenti sono sulla stessa lunghezza d'onda quella del rientro nella sede naturale dei ragionieri e geometri, anche se demandano ogni valutazione al Proveritorato delle opere pubbliche perché tracci il percorso più sicuro. Per il Nino Morandi domani potrebbe essere il giorno della verità.